C'erano diverse donne a capo delle singole piazze di spaccio scoperte durante l'operazione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna che hanno eseguito 33 misure cautelari nel Parco Verde di Caivano. Tra queste c'era Rosa Amato, 62 anni considerata la manager che vendeva la droga H24 in una delle piazze di spaccio a cielo aperto più grandi d'Europa. I carabinieri, coordinati dal maggiore Andrea Corazza, oggi hanno assestato un duro colpo agli spacciatori del noto Parco Verde. I soggetti sono considerati intrani o vicini al clan Ciccarelli Sautto e gemole sul territorio di Caivano e specificatamente sul controllo della cessione di sostanze subacenti al Parco Verde che è considerato una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa e non solo. Dalle indagini dei militari è emerso che la piazza di spaccio di Rosa Amato era tra le più produttive delle 14 neutralizzate con la raffica di misure cautelari e notificate all'alba di oggi. Molti altri gruppi criminali, anche provenienti da altre province della Campania, come i clan casertani di Marcianise, acquistavano Cobret, Cocaina, Crack, Eroina, Ashes e Mariana, Caivano, soprattutto da lei. Il giro d'affari complessivo era particolarmente ingente, circa 100.000 euro al mese, secondo le stime degli investigatori.